Linee che si assottigliano, tendono all'essenziale, si accendono di colori caldi e texture materiche, è l'estetica contemporanea. Una forma più di altre rappresenta il prosecco e con esso la straordinaria storia enologica Mionetto. Le sue linee sinuose evocano i profili delle inconfondibili colline di Valdobbiadene. Ridefinire questa forma, simbolo stesso del prosecco, è una sfida intrigante, che richiede coraggio ma anche delicatezza e sensibilità per accogliere la storia. Donandole un pizzico di preziosa femminilità, le curve slanciate disegnano una nuova silhouette dal carattere contemporaneo, alleggerire per aggiungere valore. I materiali preziosi ne dichiarano la vocazione nobile. Una lamina lucente ne sottolinea il carattere ed enfatizza il segno distintivo della grande tradizione Mionetto. Personalità forte e determinata, ma anche dolce e predisposta all'incontro. l'anima orange e l'energia dell'obliquità la rendono perfetta ambasciatrice del prosecco nel mondo. Sono bastati pochi segni, ma sostanziali, per renderti ancora più unica. tutto lo stile Mionetto, oggi anche nel nuovo prosecco rosè.